Anticipazioni Il Segreto, sabato 14 gennaio 2017. Don Anselmo avrà un malore. Per fortuna Prado e Rosario riusciranno a soccorrere l'uomo. Tutto il paese sarà in pensiero per la salute del buon paroco. Emilia caccerà dalla locanda Eliseo a causa del suo comportamento scortese. Aurora conoscerà Imella. La donna vorrebbe vendergli la residenza di El Jeral. Rosario sarà in pensiero per Alfonso, mentre Aurora progetterà di rapire il piccolo Beltran. A un tratto ecco che apparirà la Montenegro e la dolce ragazza dovrà fare i conti con le sue pesanti minacce. La donna vorrebbe vendergli la residenza di El Jeral.